Ciao, sono Sveva e sono iscritta al terzo anno del corso di Storia e Storie del mondo contemporaneo. Attualmente sto svolgendo lo stage presso la società Next Studios, una società che fa parte del gruppo Next 14 e si tratta di un'agenzia che sviluppa e produce format televisivi per diversi editori nazionali. Insieme al mio team mi occupo della parte editoriale e l'integrazione delle strategie di product placement e di brand integration all'interno dei format televisivi. Essendo lo storytelling il filo conduttore del nostro corso di laurea, questo stage mi sta dando la possibilità di comprendere in che modo lo storytelling e quindi il racconto di marca può essere utilizzato per la promozione di un determinato prodotto.